Ciao a tutti, sono Beppe Cesti, sono titolare di un'azienda agricola di superficie di 125 ettari, coltivata a riso, vivo a Casaleggia Novara, in provincia di Novara, ho acquistato come ultimo visto questo Gator 855D, perché? Perché è una scelta secondo me innovativa, positiva, in tutti i sensi, io lo sfrutto in tutte le maniere, qualsiasi lavoro lui riesce a farlo anche nel terreno molto molto molle, riesce a portare dei carichi dove prima anche con un pick up non si riusciva, ha un consumo veramente ridicolo, il costo di utilità e nell'assicurazione di un trattore e la macchina è versatile, riesce a fare di tutto, qualsiasi cosa lui riesce a cavarsela, ha le sospensioni indipendenti, ha un cambio non idraulico, quindi è già volato nei terreni molli. Per me è una gran macchina, sono convinto di questa macchina perché fotoristicamente è una macchina che io la vedevo nella mia azienda, avendo già anche pick up, ma pick up non fanno quello che fa Gator. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Magni Stefano, conduco un'azienda agricola in provincia di Novara, avico lungo, l'azienda è di circa 220 ettari, è coltivata a riso, a soia, è un'azienda che oggi ha necessità di svilupparsi ulteriormente e per questo ha recentemente acquistato un nuovo mezzo, un mezzo aziendale che è stato indispensabile. Io penso che questo sia il mezzo del futuro, penso che questa sia la macchina ideale per ogni azienda agricola dotata di tecnologia avanzata, è una macchina che sicuramente io consiglio e consiglierei a tutti i miei colleghi, perché da sola veramente riduce la fatica, riduce i tempi di lavorazione, i tempi morti, è una macchina che ha una produttività estrema.